mi piace bella a tutti ragazzi eccoci qui per questo nuovo video siamo pronti video di sponsorizzazioni ho deciso di fare 5 sponsorizzate una volta perchè 7 non significa nulla però non la sto sentito questo video allora allora queste sono le persone che mi hanno chiesto di essere sponsorizzati perchè vi ricordo per essere sponsorizzati dovrete essere attivi sul canale commentare ogni mio video almeno mettere un mi piace e mi accorgo di mettere un mi piace naturalmente queste sono quelle che me l'hanno chiesto potete chiedermi sul canale sui commenti o messaggio privato se volete alcuni di questi non me l'hanno chiesto ma io potrei sponsorizzare lo stesso perchè mi piacciono molto come il canale siamo pronti subito il primo sponsorizzato sarà G Gallo si scrive in questo modo G trattino no trattino no scrive G Gallo in questo modo comunque lui ha il direttivo di livello del genere almeno quello che scrive è molto smart per seguirlo mi sembra che un video tuo l'ho visto ragazzi non vi arrabbiate se mi seguo tutti voi cioè mi seguo però naturalmente non potrò commentare ogni video perchè veramente tante persone da seguire poi c'è un altro sponsorizzato l'avevo già nominato nel scorso video però però non lo posso dire mi ha chiesto di sponsorizzare un altro video anche a youtuber sit spero l'avete visto però era un suo amico è stato mal inteso quindi comunque passate dal canale costel ciriac che si scrive in questo modo costel ciriac anche fate i video su crash class minecraft credo se non ho visto tutti i suoi video non vi sono solo i più recenti e dunque passate dal suo canale perchè ne vale da pena e che si votano tutti quanti canali non me ne vedete no attenzione veronick small il prossimo canale è mia sorella ecco qui veronick small ciao anche qui sul chiesa allora farà dei video simili ai miei credo però non suggeriamo però farà delle challenge e forse il passato delle responsabilizzazioni sarà sul suo canale vedremo rimanere le cose eh comunque passate dal suo canale le challenge magari iscrivetevi anche se non è girato video faremo anche altre challenge poi c'è dj michaelwell dj michaelwell si scrive in questo modo dj michaelwell si scrive in questo modo dj michaelwell si scrive in questo modo dj michaelwell fa mette dei video di musica molte canzoni è molto bravo a montare i video bui 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 E' molto bravo a editare i video E passate dal suo canale Naturalmente passate anche dal mio Ah giusto Se siete guardate il video siete passate dal mio canale E poi Chi è? Poi c'è Fuse Gamer Fuse Gamer E se scrivi in questo modo non sbagliatevi Fate video su FIFA E' molto divertente Anche se non fa un marcello assurdo Però è divertente E' napoletana E' il nostro amico bravo vaione E' molto simpatico però Guardo quasi tutti i suoi video E mi raccomando passate dal suo canale Passate dal mio Passate dagli altri Passate da esso Passate da quello Passate da quell'altro Passate da quell'altro ancora Passate da quell'altro Passate da un altro Deve non cantare il disco Allora mi raccomando ragazzi E allora il video finisce qui Per essere sponsorizzati Potete essere qui sul mio canale Commentare i miei video Mettere mi piace Chiedermelo Su messaggio privato Su messaggio pubblico Per oggi è tutto Arrivederci per il prossimo video Che probabilmente sarà domenica Ci sarà una challenge No 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 Ma è stata sul canale mio Forse sul canale No E la challenge sta scritta Cioè la challenge la facciamo Sul mio canale Ma metteremo una replica Sul canale di Veronica e noi No No Faremo solo sul mio No No Lo facciamo sul nostro Perché No Chi te ne lascia a te No No Lo mettiamo sul suo canale Sul suo canale Ci va passare dal suo E poi metteremo la replica Due ore dopo Sul suo canale E poi faremo anche L'obbligo a verità No 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 Tu ci stai Sì va bene Gabriele Allora Guardate Un lato tempo La challenge 7 secondi Vero un figlio Sì va bene Ehm Va bene Per questo video è tutto Non c'è più di case minchie di dire Passate dal pian canale Mi raccomando Non passate il risultato Delle altre canale Ha visto che Lo sponsorizzate Ricordatevi Del grande gesto Quindi Allora Come potete fare Siamo a 5 Di video Ehm Arrivederci people